Ore di campione pieno di energie Il sport di Ceno Game ci porta in una nuova dimensione Con passione e coraggio siamo pronti a brillare E Studio 7 e TV ci guida ad ogni passo Ad ogni sfida da affrontare Con orgoglio e con onore siamo pronti a dare il nostro meglio Con Pietro come guida Il nostro spirito non se rende mai Sport di Ceno Game e Studio 7 e TV L'intervista di Pietro, un cuore di un campione Ogni atleta ha una storia, ogni momento è un'emozione Con coraggio e con determinazione Studio 7 e TV e Sport Piceno Game presentano L'intervista di Pietro, ospite della puntata Benvenuto a una puntata, abbiamo ospite un giovane cantatore Victor Uckmar A questo punto la prima domanda ci giorge spontanea Se dovessi descrivere per chi non ti conosce Oggi chi è Victor? Come lo descriveressi? Allora, penso che Vic sia una persona con diverse sfaccettature Penso che sia una persona molto profonda e molto emotiva Che iper analizza tantissime delle cose che mi accadono in questo momento Durante il giorno e anche che mi sono cadute E che forse mi accadranno Quindi sono un po' dappertutto Però allo stesso tempo sono anche quell'amico Penso, spero, di essere quell'amico Che dirà sempre fare una battuta fuori dal nulla E fa un po' ridere tutti E si rende un po' ridicolo davanti a tutti Per smorzare un po' l'aria Quando a volte nella vita ce n'è bisogno Quindi sì, ho entrambe queste parti mie E a questo punto parliamo tanto dell'ultimo singolo Come nasce questo singolo E lo facciamo pronunciare a te Come nasce questo singolo? Da cosa tra ispirazione? Allora, il singolo si chiama Superficie E è una canzone super estiva È una canzone che nasce dalla necessità di un sorriso Cioè la necessità di ridersela Quando per tutto l'anno siamo sempre così concentrati A voler arrivare ai nostri obiettivi E molto spesso ci dimentichiamo appunto Di guardarci attorno E renderci conto di quello che ci sta accadendo E di goderci il presente E quindi è una canzone che nasce da questa necessità Nasce dal voler ricordarsi Che stiamo vivendo in questo momento Che non ci dobbiamo Che il tempo che abbiamo è solo uno E che l'estate sta arrivando E quindi è il momento di godersela e ballare Nella realizzazione dei tuoi testi Nascono prima le canzoni Nasce prima un riff Nasce un beat Oppure nasce una parola Una frase Oppure possiamo dire Nascono insieme Allora, molto spesso A volte è sempre qualcosa Cioè molto spesso è un elemento Che mi porta a scrivere una canzone Che sia un episodio di qualcosa Che mi è successo Una parola che ha una pronuncia particolare O dà un'immagine particolare E quello me lo scrivo nelle mie note E poi quando ho il mio tempo Per cominciare a creare un castello Diciamo Pezzo per pezzo Per questa canzone Entrano tanti elementi allo stesso tempo Però di solito è uno Come per superficie è successo Che volevo scrivere una canzone Basandomi proprio sull'elemento dell'acqua Quindi proprio della fluidità Dell'acqua E del gioco che c'è un po' con l'acqua Quindi volevo fare una canzone estiva Però non volevo fare Volevo trovare un titolo particolare Che rappresentasse un po' l'estate Una parola chiave diciamo E allora ho pensato mare Queste cose Poi ho pensato la superficie del mare Non penso di aver ancora sentito Proprio una canzone Che si concentri proprio sulla superficie E quindi ho creato una metafora Con a volte quando si dice Di stare in superficie È sempre una roba negativa È sempre dire no Ma sei una persona un po' così Però penso che ci sia Poi un grande valore Nel riuscire a salire in superficie In alcune situazioni E quindi questa canzone È nata un po' da un concetto Che avevo nella testa Invece nei testi Precise essere un po' prolisso Perché l'italiano Tende un po' essere Un po' più descrittivo Oppure un po' come l'inglese Anche perché tu cambi anche l'inglese I testi sono un po' più sintetici Un po' più schematici Dove un pochettino Riporta un po' sul sintetico Sì allora penso che Specialmente Questo è sicuramente Il motivo per cui Ho avuto questo momento In cui ho cominciato a scrivere musica In italiano Io ho sempre scritto in inglese Ma c'erano delle emozioni Che necessitavano di un vocabolario Un vocabolario Un vocabolario Un mio vocabolario Che a me pareva più preciso E quindi Avevo inizialmente provato Alcune di queste ultime canzoni In italiano In inglese A scriverle in inglese Ma non rendevano E allora Con appunto l'italiano Sono riuscito a trovare Delle descrizioni Molto più soddisfacenti Di quello che volevo Trasmettere nella canzone Parlando intanto Di questo singolo Da chi nasce l'idea Questa copertina Di questo singolo Con Che è un disegno Che mi sono fatto io Vi faccio vedere Il disegnino Che è le mie skill Di disegnatore Mi sono disegnato io Nel carrello Questa è un'idea Che avevo Da tempo È una canzone Che nel ritornello Dico Salgo in superficie Mentre fai shopping Di vibes Col carrello Delle invidie Quindi Continuare sempre A volere qualcosa Che gli altri hanno Perché non siamo mai soddisfatti Con quello che otteniamo E l'idea della copertina Poi appunto è nata Da questa linea Nel ritornello E mi sembrava molto divertente Come mi ricordo Quando ero piccolo E andavo a fare la spesa Con mia madre E mi metteva nel carrello Quando c'è la parte del carrello Dove puoi mettere anche i bambini E mi dava quel senso Di gioco E quindi ho voluto ricreare Un po' tutto Questa metafora Sulla copertina Dove mi stanno spruzzando Dell'acqua addosso Dei miei amici Hai suonato dal vivo Sicuramente Qual è la sensazione Che si prova A avere un pubblico davanti Dove Inizialmente è silenzioso Ma poi In fondo Ti trasmette Anche in buon daremente Perché chiaramente Tu sei concentrato Sei teso Del tuo brano Però L'energia Che loro ti trasmettono Che poi tu ritrasmetti Le tue emozioni Con le tue canzoni Qual è la tua sensazione Che provo in quel caso? Penso che sia una cosa Veramente Veramente speciale All'inizio Non posso Diesimarli Chi Magari Arriva al concerto Non mi conosce Ascolta Sta in silenzio Non si smuove E dice Ti lascio fare Allora io Lascio che mi lasciano fare Nel senso Io sono sul mio palco E racconto le mie storie Sono contento delle storie E orgoglioso Delle storie che racconto E poi penso che ci siano Cerco sempre di inseguire Questo Le emozioni umane Sono condivise Tutti i giorni Nel senso Siamo tutti esseri umani Che passano Attraverso episodi Felici o tristi E quindi In quel momento Quando scrivo una canzone Miro anche A cercare di trovare Una connessione Con gli altri Che spero Spero di ottenere E quindi Quando canto le mie canzoni Al concerto Magari all'inizio Le persone non Non rispondono Cerco Cerco di accentuare E magari di renderlo Un po' più teatrale L'esibizione Per dare proprio L'idea Del tipo di emozione Di cui sto parlando Per dire Anche voi avete sentito Quest'emozione Vero? Sono l'unico E quindi in quel momento lì Penso Ci sia sempre un po' un click E ci sono le persone Che cominciano appunto A muoversi A sorridere A alzare il cellulare A fare un video Sì Quindi È bello Molto E invece Poi scesa al palco Tu incontri queste persone Che sono state lì Comunque tutto il tempo Ad ascoltarti Le vedi con quelle facce Rilassate O felici Oppure Ti citano anche A volte capita Che ti citano Qualche pezzettino Di frase Del tuo brano Come se in realtà Parlassero di loro Comunque Descrivessero Una loro sensazione E a quel punto Vedendo queste cose Qual è la tua sensazione Poi In risposta Se ci sono risposte Oppure basta Già un sorriso Io ogni volta Sono senza parole Perché penso Che la musica Abbia veramente Questo grande Questo grande potere Di Di connettere appunto Le persone Quindi appena Vedo che una persona Ha preso del tempo Anche se proprio per poi Non significa quasi niente Magari per tanti altri Però di venire da me Magari di farmi un complimento O anche non un complimento Comunque viene da me E mi dice Ho sentito qualcosa Quando cantavi la canzone Oppure mi piace molto La canzone Oppure mi sono ritrovato In quella È proprio È proprio Incredibile Perché lì Riesci a capire Come veramente Funzionano le interazioni umane Come la musica Sia veramente Una sintesi Di quello che succede Nella chimica Tra Conoscere una persona Cioè Quando due persone Si conoscono E quindi Quando succede Dico È magico Cioè È proprio letteralmente Lo descriverei Come magia Quindi è veramente Incredibile Come funziona E Invece Ci sono artisti In cui un pochettino Involuntamente Ti porti Anche perché Crescendo musicalmente Uno Ascolta la musica Però Un pochettino Te lo porti Un po' Non solo Nel Come lavorare Sulla canzone Ma soprattutto Anche sull'impostazione Un pochettino E Se c'è qualche artista Poi Ammiri Involuntamente Sì C'ho 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 un bel po' Di artisti Che Che ascolto E penso che Una delle artiste Italiane Che ascolto Tantissimo E levante E in Italia Penso che La sua penna Sia Sia unica Penso che Il modo in cui Lei scrive Cerca di Creare immagini Ed emozioni Mette insieme Immagini E emozioni È veramente Particolare E quindi Lei è una grandissima Ispiratrice Anche artisti Come Mahmood O Gaia Che hanno Delle influenze Sono italiani Entrambi Ma hanno Influenza Da fuori Dall'Italia Sono entrambi Artisti Che Mi spronano Ad essere fiero Di essere Contaminato Da altre culture E di portare Questo Di nuovo Indietro Nel paese In cui sono nato In Italia E di creare È qualcosa Di super Super figo Super bello Super divertente E invece Secondo te C'è differenza Nel trovarsi Sopra il palco Come artista E Essere sotto Il palco Come fan Di quell'artista Secondo te C'è differenza In E se c'è Come la rappresenti Secondo te La differenza Tra l'essere L'artista Sul palco E il fan Sotto il palco Bella domanda Beh Secondo me appunto Una volta che Stiamo Stiamo parlando Di musica Si parla di una Comunicazione Tra una persona E un'altra persona Quindi Per quanto Una persona Possa pensare Sì l'artista È su un palcoscenico Quindi è fisicamente Più in alto di noi È come se Ci stesse Comandando qualcosa Siamo sullo stesso piano Nel senso Siamo tutti esseri umani Che cercano La musica E un altro modo Di comunicare Quindi Penso che Quando trovi Proprio quell'artista Speciale Ci sono degli artisti Speciali Che veramente Cercano di Accorciare La distanza Tra loro Come artisti E i fan E tipo Si buttano Nella folla O vanno Vanno a parlare Con i fan Mentre Mentre cantano E quindi Gli artisti Che seguo io La maggior parte Che seguo io Penso che non mi facciano Sentire Una grande differenza Tra uno e l'altro È come se fossimo Tutti a una festa E fosse il momento Di uno dei tuoi amici A cantare La canzone Nostra preferita E quindi È particolare Sì E Dando progetti futuri Oltre a promuovere Chiaramente Il singolo Che è appena uscito Sì Allora Adesso Appena uscito Superficie Giusto in tempo Per l'estate Come volevo E Prima di Superficie È uscito Un altro singolo Che si chiamava Moai Anche lì Una parola particolare Che La canzone è nata Da un'immagine In particolare Della statua E Il prossimo singolo Spero che uscirà Tra settembre Ottobre E sarà L'ultimo singolo Il singolo Prima di far uscire Questo mini Album Che a cui sto lavorando Che si chiama Quareelemento E Uscirà Entro la fine dell'anno Spero Invece Volando Come una farfalla A questo punto Perché vediamo Che c'è una farfalla C'è un C'è un Qualcosa particolare Che ti lega A te La fantasia Le farfalle Oppure Così nasce Per caso Quella farfallina Questa qui È nata un po' Per caso Perché Era un regalo Molto Casuale Da parte di mia mamma Mentre stava smistando Delle cose dall'armadio E dei gioielli Che non utilizzava E Mi ha detto Se ti piace La puoi prendere Allora l'ho presa Poi l'ho indossata Per alcune occasioni Pensando Ah no È fin troppo particolare Cioè tipo Non posso mica Metterla Tutti i giorni Invece poi vivendo In una città Come Londra Comunque ti rendi conto Che è incoraggiato Questo comportamento Quindi esci fuori Vestito come vuoi E quindi Mi sono dimenticato Di averla addosso Per qualche giorno Ho detto Ah È diventata un po' Una roba normale E penso che Mi sono reso conto Che comunque Il simbolo Della farfalla Della metamorfosi Comunque con la farfalla Il colore giallo Siamo tutti Degli elementi Che riportano Alla persona Che sono io Quindi Ti tengo molto Nel secondo punto L'ultima domanda Che ci viene È che Ci sono due cose Da completare Che sono E gli indirizzi Dove poterti raggiungere E i saluti finali Ok Faccio tutto Faccio tutto insieme Ok Allora Intanto mi potete trovare Su Instagram Potete trovarmi Su Instagram Scrivendo Vick Quindi V-I-K-W-H-O Quindi Vick Who E Principalmente Sono su Sono lì Poi anche su Facebook Mi trovate Con Vicks Music Quindi V-I-K-S Poi Music E E E Niente Scrivetemi Che tanto io Vi rispondo Rispondo sempre A tutti quanti Quindi Mi fa sempre piacere Grazie mille Grazie mille A tutti Grazie Pietro Per Per l'intervista E Un saluto A tutti quanti Ove di campione Pieno di energie Il sport Piceno game Ci porta In una nuova dimensione Con passione Coraggio Siamo pronti a brillare E Studio 7 TV Ci guida Ad ogni pass Ad ogni sfida Ad affrontare Con orgoglio Con onore Siamo pronti A dare il nostro meglio Con Pietro Come guida Il nostro spirito Non se rende mai Sport Piceno game Studio 7 TV Intervista di Pietro Un cuore Un campione Ogni atleta Una storia Ogni momento Un'emozione Con coraggio E con determinazione Studio 7 TV E Sport Piceno game Hanno presentato L'intervista di Pietro Ospite della puntata Salgo in superficie Mentre fai shopping device Col tuo carrello Del Wow Wow